Almaviva è un player nazionale ed internazionale che da anni supporta ed accompagna le amministrazioni pubbliche nel percorso di transizione verso il digital. Per quanto riguarda il settore dell'Healthcare abbiamo deciso di adottare un approccio People First che mette proprio al centro la persona prima che il paziente all'interno dei nostri ecosistemi. Crediamo che la finalità sia quella in questo momento di spostare l'asse dalla cura alla presa in carico del paziente da un tema di acuzie ad un tema di cronicità proprio per cercare di superare un concetto a nostro avviso ormai abbastanza obsoleto reattivo in qualche modo di salute per spostare invece l'asse verso un paradigma più olistico di benessere della persona in chiave One Health quindi inteso sia come benessere fisico e biologico sicuramente ma anche psichico ambientale e sociale.